Oddio ragazzi! Ciao a tutti ragazzi e ragazze benvenuti su gioca con mike ragazzi siamo qua e ragazze a nel gioco a raya o aria come dice l'amica di aria parte numero 4 e siamo qua rimasti dove è passato quel tipo con la seda a rotella follow dessa che c'era scritto mannaggia la miseria guardiamo un po' allora Ah ok segui la persona sospetta vabbè tanto andiamo dritto prima o poi ci seguirà quel bastardo sicuramente questo già si sa un po' i quadri sono persone cattive ragazzi Poi perché si devono aprire tanto l'aprivo io sta porta non è che non l'aprivo l'aprivo io ragazzi Qua abbiamo un altro bagno la porta si è chiusa da sola naturalmente questo già si sapeva Ok ragazzi Ho capito ragazzi qua non si passa non si passa perché quel tipo sicuramente prima o poi ci seguirà Ci seguirà e noi dobbiamo saltare di là ragazzi per scappare sono sicuro al 100% Vediamo cosa c'è qua Malanno però sta luce è un po' troppo forte Quella è mira o come si chiama mira marisa Ok andiamo prima qua dentro per essere sicuri che non ci perdiamo niente Magliette La musica ragazzi mamma mia Sta andando a tavoletta la musica sta andando Forse devo abbassare un po' il volume del microfono E qua sicuramente verrà quel bastardo Si l'ho vista già prima Ok dobbiamo correre sicuramente ci vede ragazzi Lo sapevo Corri 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 dai dai Ecco lo sapevo lo sapevo Lo sapevo che devo correre Vai 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 ce la facciamo Madonna ragazzi E' lento sto tipo Ok continuiamo continuiamo Non c'è più il letto Vai 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 Corri 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 Dai ce la facciamo ce la facciamo Perfetto corri Mamma mia quanto va lento Salta salta Space Oddio non saltava Madonna com'era forte ragazzi Devo abbassare l'audio Ok ragazzi capitolo 3 Comunque siamo adesso il vicino di casa di come si chiama Rama Siamo il vicino di casa ha detto perché deve andare qua in giro Perché lui è della sicurità E c'è qualcuno a telefono che ci ha detto Ha messo Delle Sì sì questo posto fa paura Ho capito Allora Fai le foto Gang signs Ok ecco qua Il nostro amico al telefono che non conosciamo ha fatto qua Dei disegni al muro E noi dobbiamo farci le foto Perché lui ha detto questo posto È molto strano Naturalmente la porta si apre da sola Madonna che insetto gigante Questo ci salta Madonna Sto tipo ci salta addosso sicuramente ragazzi Non c'era mai nessuno davanti Quindi Non dovrebbe essere così come pensavo Ok qua è molto buio L'ha capito adesso ragazzi Dopo che sta camminando da due ore con il cellulare Qua non c'è niente Ah là c'è un altro tatuaggio al muro Chiamamolo così Ok ragazzi Il mio cellulare La porta si è aperta E diciamo che è chiuso in un modo misterioso Ok Sì il cellulare l'ho capito Porta chiusa Dammi tempo mannaggia la miseria Fammi arrivare Ok chiusa Vabbè chiusa Mamma mia Ecco qua Allora abbiamo No Nomia Ok c'è un cellulare che non funziona più Ma ha squillato adesso quasi mezz'ora L'abbiamo la ragazzina Credo che sia a Raya Naturalmente noi andiamo più veloce possibile Per aiutare Ah Raya Perché è scomparsa così Cazzo è questo Adesso qua sicuramente dobbiamo hold Che c'era scritto? Hold left Ah dobbiamo tirarlo Tua sorella si è alzata Stamattina Che cazzo Ragazzi queste idee non mi piacciono Queste idee non mi piacciono Ragazzi No? Ok la box non si apre La porta naturalmente È aperta E c'è Ragazza Quel tipo ha una mezza testa ragazzi Non posso fare zoom? No? Andiamo a tutta velocità Ok ragazzi Questa storia non è che mi piace più eh Non ho più la lampadina È molto buio Non mi piace Oddio Madonna santa Ok Prendere l'ascensore Non dobbiamo prendere l'ascensore Ti pareva Ok E adesso un'altra cosa ragazzi Perché qua manca una? Qua ne manca uno ragazzi E sono sicuro che da queste zone O da queste parti Finte key Ok dobbiamo trovare la chiave Per aprire la porta Ah qua abbiamo la chiave ragazzi Get him damn Madonna santa Bastardo Sto tipo si muove È tutto pelle d'ossa Sei modello? No Ok Non è che si gira no? Se vengo qua No Ok Perfetto Ragazzi Mamma mia È già tutto volume Ce n'è un altro Non c'è più Ok Ok Qua ce n'è un altro Ciao bello Mi fai passare? No Chicco non ti muovere Oddio ragazzi Wow 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 Putta Nella È chiusa Ok, due Dai, dai, fai subito, fai subito Tanto non mi fa più niente, spero Non dovrebbe farmi più niente, ragazzi B Che è successo? È diventato tutto buio, ragazzi Credo che qua facciamo fine con questo episodio, ragazzi E come sempre mettetemi un bel like, ragazzi Sotto questo video Iscrivetevi per non perdervi nessun video Un like sulla mia pagina Facebook Che è sotto nella descrizione Anche su Instagram, naturalmente E come sempre, ragazzi Vi saluto, il vostro gioco è con Mike Ciao a tutti